Romics 2015, siamo con un bellissimo cosplay, un manga Sì, il manga Black Butler Bellissimo, e come sta andando questo Romics? Eh, molto bene, molto affollato, più che altro Allora, mi spiegavi che chi viene vestito da cosplay ha un prezzo ridotto sul biglietto? Sì, sì, ha un prezzo ridotto, paga diciamo il 50% in meno rispetto al prezzo completo Molto bene, oggi è una giornata comunque di sole, un po' coperta Sì, è un po' freddina col vento però Tu poi stai vestita a pelle, no? Sì, sì, ci sono ragazze che stanno praticamente un po' spogliate Ascolta, tu è il primo cosplay che fai? No, no, sarà il millesimo Il millesimo, qual è un altro grande cosplay, un altro raduno di cosplay che c'è qui in Italia? Beh, uno dei più grandi è sicuramente Luca e Luca Comics Dove si raduna tutta l'Italia in pratica Quando c'è il prossimo? Eh, dovrebbe essere verso novembre, quel periodo Ah, novembre, ok, ecco, c'è anche... Sono due del nostro manga Prego, venite, entrate pure, eccole qua, regia Allora, essere o non essere, com'è qui? Eh, Undertaker, versione femminile Sempre dello stesso manga? Sì, sì Cura Scezzo Undertaker, però la versione classica, normale Stai inquadrando anche l'altro, il tuo cosplay, sì, tutto quanto, benissimo Allora, che cos'è questo? Un testo? Spiegaci il tuo manga Allora, il personaggio è uno Shinigami, cioè un dio della morte Che viene camuffato facendo il becchino Infatti qua c'è il teschio Molto bello, invece lei... È la stessa Solo che io faccio la versione femminile e lei la versione maschile Esatto Versione maschile Quella originale Io invece la versione femminile Ritorniamo, ecco, allora con l'inquadratura di gruppo Oggi è il sabato del Romics, è strapieno Ieri siete venute? No, è il primo giorno Da dove venite voi? Palermo Da Palermo, proprio per il Romics? Sì Molto bello, eh? Invece tu vieni da... Roma Da Roma, addirittura da Palermo vengono per... Abbiamo visto anche qualche... dall'estero, no? Qualche persona dall'estero Ho notato qualcuno che parlava americano Allora, vabbè, complimenti E oggi è appunto strapieno Ieri c'era poca gente Oggi veramente il... pienissimo, giusto? Sì, sì Ok, allora chiudiamo Grazie a tutti Buon Romics 2015 Buon proseguimento Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao